E in questa puntata di Sportello Reclami torniamo su un argomento che abbiamo affrontato circa un mese fa. Vediamo di che si tratta, siamo a Quarata. Buonasera, ben ritrovati su Sportello Reclami. Siamo di nuovo a Quarata, siamo di nuovo a Quarata. Melissa, buonasera. Beh, ci fa piacere essere ritornati qua, però purtroppo se siamo ritornati qua vuol dire che qualche cosa non è successo ancora. Vi ricordate noi eravamo venuti qua per parlare del problema del punto prelievi, della rarefazione del servizio, di questa riorganizzazione che prevedeva il fatto che solo pochi posti, solo pochi giorni sarebbero stati disponibili per le utenze, cioè per tutti coloro che hanno bisogno di prenotare degli esami, anche degli esami piuttosto complessi. Beh, c'era stato un impegno che era quello di realizzare un'assemblea pubblica con le persone di Quarata e dei tanti borghi vicini che su questo punto prelievi gravitano. Ebbene, questo incontro c'è stato. Melissa, purtroppo uno pensa, beh, è un'assemblea, discuteremo. E invece non è stato così. No, non è stato assolutamente così, in quanto che praticamente loro sono venuti, hanno ribadito le loro decisioni, non hanno assolutamente preso in considerazione le nostre necessità perché sono necessità effettive. Anzi, addirittura bisogna dire che si sono basati su dati non veri che hanno, secondo loro, acquisito dal CUP, soprattutto dalla farmacia di Quarata. Io sono andata, mi sono informata e non è assolutamente vero che, come dicono gli addetti e i responsabili dell'ASL, non si riesce a coprire tutte le utenze. Anzi, si coprono e si coprono alla stragrande e addirittura non c'è posto. Non c'è posto per i prelevi normali fino al 12 di dicembre. E addirittura per i prelevi TAO, che sono quei prelevi specifici, il posto lo abbiamo il 16 di gennaio. Di conseguenza, non è vero che in questo modo, con questi orari, si coprono tutte le utenze di cui Quarata e di intorni necessita. Insomma, è una situazione piuttosto complicata. Le persone che sono intorno a noi sono persone qui di Quarata e delle zone vicine sono persone che hanno necessità che, vicino a dove stanno, ci sia un punto al quale rivolgersi per ottenere delle prenotazioni per quello che riguarda i prelievi del sangue. Insomma, immaginiamoci una persona che ha dei problemi abbastanza rilevanti che addirittura è costretto a aspettare più di un mese per riuscire a ottenere, non soddisfazione, ma per riuscire ad ottenere un esame che probabilmente è fondamentale per il suo benessere. Ci si sente un pochino abbandonati, un pochino trascurati, poco ascoltati? Eh, decisamente, anche perché durante l'assemblea molti presenti hanno fatto appunto presente i disagi, i disagi a cui vanno incontro, i disagi dello spostamento, del doversi spostare, il disagio della possibilità di non potersi spostare e della tranquillità che avevano potendo venire qui a fare questo tipo di prelievo oppure questi tipi di prelievi. E' ovvio che ci sentiamo abbandonati, la popolazione si sente abbandonata e non ascoltata, però com'è che si dice? Ora è così. Beh, noi speriamo sempre attraverso queste trasmissioni che vogliono essere la voce dei cittadini, che vogliono essere il megafono per voci che talvolta passano sotto traccia o che sembrano troppo basse. Vogliamo sperare che attraverso questo nuovo intervento qualcuno possa mettersi un attimo a riflettere e a pensare se non sia il caso di modificare in qualche modo un processo di riorganizzazione che incide così fortemente e in maniera negativa su una popolazione che invece ha una profonda necessità che un servizio resti a sua disposizione. Questa è la speranza, questo è il servizio di questa sera che io lascio a voi in prima visione, a voi che ci ospitate cortesemente tutte le sere nelle vostre case e anche a coloro che sono direttamente interessati a questo processo di riorganizzazione che per tanti versi è necessario e inutile nasconderselo, che però in qualche modo possano prendere coscienza una volta di più di quelle che sono le reali esigenze delle persone che vivono a Quarata e in tanti borghi intorno a Quarata. Per questa sera è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Sportello Reclami. Arrivederci. Quindi ancora preoccupazioni per il punto prelievi, ne parliamo tra un attimo. Sportello Reclami oggi è tornato nella popolosa frazione di Quarata dove già abbiamo raccolto questa lamentela, questa preoccupazione direi più, la preoccupazione che il punto prelievi in questa frazione sia a rischio. Dopo un incontro con i responsabili della ASLE le preoccupazioni, avete sentito, non sono state fugate, anzi devo dire che ne sono uscite maggiorate. Postiamo anche questo servizio nel nostro sito a disposizione di chi possa prenderne visione, di chi voglia rivederlo, di chi possa in qualche modo trovare una soluzione a questa difficile situazione. Grazie della vostra attenzione, continuate a mandare i vostri reclami, segnalazioni, quello che volete, l'indirizzo è Sportello Reclami, chiocciolateletruria.it oppure anche su Facebook dove riceviamo anche i vostri commenti in diretta. Grazie dell'attenzione, a domani.